Buongiorno, buongiorno dal dottor Claudio Saracino da Benessere Ipnosi Soluzioni, l'ipnosi di CS vera e professionale con la Viva Iusco. Oggi ragazzi rispondo ad un signore che mi chiede sul bullismo, cioè l'approfittare, il prendersi in gioco, l'offendere, l'usare violenza verbale e fisica sui ragazzi, fra ragazzi. Che cosa si può fare dottore per rendere mio figlio più sicuro, più forte, più con autostima vera perché si fa sempre bullizzare dai compagni a scuola? Che cosa si può fare? Bene, con l'ipnosi di CS vera e professionale, caro signore, lo dico anche a te che mi ascolti, si può fare tantissimo perché tante volte il bullismo nasce dagli altri ma inconsciamente è il proprio subconscio che attira atti di bullismo. Perché? Perché non ci si ama, si ha un'autostima sotto i piedi, si dimostra debolezza inconscia, ripeto. Noi non attiriamo ciò che vogliamo, noi attiriamo ciò che siamo, ciò che pensiamo. È una frase bellissima questa qui ed è vero se ci rifletti, è verissimo. Come nell'amore, nella vita, a scuola. Per cui per poter allontanare tutti i mali intenzionati bisogna usare lo stesso strumento che è il tuo subconscio, il tuo pilota automatico, quello di tuo figlio. E il metodo di CS, di ipnosi di CS, vera e professionale con la V maiuscola, fa il caso tuo perché funziona e serve anche per chi non vuole il tuo aiuto, chi non può avere il tuo aiuto, per vari motivi che adesso qui esulano da questo episodio. Però il sottoscritto, ma anche la dottoressa Rina Prunini, il professor Michelangelo Garai, abbiamo aiutato moltissimi bambini soggetti a bullismo. Anche con un solo audio MP3 di CS che ti puoi scaricare dal sito internet, come ad esempio no ansia, no panico, ego entusiasmo, no passato negativo perché il bambino bullizzato è stato condizionato, impostato, cresciuto con questi limiti di autostima e non avendo l'autostima, la sicurezza, una personalità forte, purtroppo inconsciamente come un animale, sto facendo delle metafore ma mi devi capire, capisce il tono di voce del proprio padrone però non capisce la sostanza, cioè la forma delle parole eccetera eccetera, così anche un bambino debole, tra virgolette, con un'autostima bassissima viene attirato da chi per un motivo o per un altro è più arrogante, è presuntuoso quindi all'autostima, al di là della ragionevole accettazione e naturalmente che succede? Che si farà bullizzare. Ora se si eliminano dal proprio subcosciente queste nuvole nere che cosa succede? Succede che si sente più sicuro. Non contraccambierà con violenza ma neanche attirerà nella sua cerchia, nella sua sfera di influenza, i bulli. Sembra una cosa assurda ma succede proprio così e troverà, ammesso non concesso, la soluzione e non si sentirà più male emotivamente parlando perché nulla e nessuno lo può toccare se utilizza il potere della propria mente con suggestione di CS ad anche, scusami, con un solo audio mp3 dcs che può fare al caso tuo oppure di tuo figlio. Non credere a nessuna parola del sottoscritto però ricordati tutto parte dalla nostra mente anche se la tua ragione non riesce a spiegarselo, tutto, 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 nella vita visibile e invisibile, i comportamenti, tutto ciò che ci succede nel corpo, nella mente, tutto esce da qui, da qui, da qui, da questo grande potente computer dell'universo. Ok? Fammi tutte le domande del caso, ti risponderò gratis compatibilmente ai miei tempi e ai miei impegni, visita il mio sito di internet www.ipnologiassociati.com, la mia fanpage su facebook ipnosi auto-ipnosi del dottor Claudio Saracino, iscriviti a questo canale youtube benessere ipnosi, soluzione di CS del dottor Claudio Saracino e fai share e condividi con amici e parenti perché può essere quel guido, quella molla che gli può cambiare la vita, seguimi anche sulle altre social, instagram e twitter, benessere ipnosi, soluzione di CS del dottor Claudio Saracino. Un bacio, un abbraccio e alla prossima, ciao!